Oggi abbiamo spiegato come Irene Miglia ha approcciato il discorso della telelettura gas a partire dal 2009-2010. Il primo passo, la prima scelta di Irene è stata quella di ideare e realizzare un progetto pilota con i partner e le caratteristiche della multimarca, potenzialmente multiservizi, individuando nel fornitore software che già era presente, Terra Nova, anche il fornitore del SAC. E con questo progetto pilota Irene non ha voluto sperimentare né una tecnologia né una particolare scelta tecnica, bensì sperimentare e testare un processo nel suo complesso, quindi dall'acquisizione del dato di misura fino al pieno utilizzo per allocazione, vettoriamento e comunicazione alle vendite. Il secondo passo di Irene Miglia è stato quello di consolidare ovviamente il pilota e dalle due principali indicazioni che ne abbiamo disunto, ossia la necessità di sistematizzare il recupero delle teleletture quando queste non funzionano e anche le attività di manutenzione, di passare quindi a un modello BUY, quindi di acquistare un servizio da una società che era ed è tuttora fornitrice per Irene Miglia di servizi, che si chiama Sosell, e con Sosell abbiamo costruito un servizio di meter reading con garanzia di recupero del dato di telelettura, ovviamente coinvolgendo i partner Telecom per quanto riguarda le TLC e Terranova sempre per quanto riguarda il software. Attualmente quindi diciamo siamo in produzione da almeno un anno, il sistema di telelettura fa sì che ogni mese tutti i PDR teleletti vengono, diciamo i dati di telelettura e gli eventi vengono acquisiti dal SAC e dal SAC di Sosell e quindi poi trasferiti sui sistemi di Irene Miglia e quindi adesso siamo concentrati sull'aspetto manutentivo e di prossime installazioni. Prossime installazioni cosa vuol dire? Iniziare a ragionare sui calibri intermedi e poi anche G4 e G6. Per il G4 e G6 le complessità saranno molto maggiori e l'idea è quella di approcciare con un ulteriore progetto pilota da strutturare, da costruire, da pensare, che però dovrà essere nella nostra idea multimarca, multiservizio, quindi telelettura del gas e anche dell'acqua e aperto eventualmente a nuovi prodotti. La finalità di questo ulteriore progetto pilota rivolto ai mass market dovrà essere quella di consentire al cliente finale di avere un dispositivo che può essere un home display o comunque un'altra interfaccia, un dispositivo che gli consenta di vedere i suoi consumi e di governarli in ottica di risparmio energetico.